Dopo un mese di preparazione per l'HC Nour è arrivato il momento dell'esordio in Serie A 1 di pallamano femminile. Le Nuresi saranno di scena domani pomeriggio in Alto Adige contro la Brixen Bressanone. Per l'HC si tratta della prima uscita ufficiale della stagione dopo le amichevoli disputate a Civitavecchia contro la neopromossa Flavioni. L'obiettivo della formazione guidata dal coach Roberto Dejana è quello di arrivare ad una salvezza tranquilla e magari togliersi qua e là a qualche soddisfazione come è accaduto l'anno scorso. La formazione Nuresi si presenta ai nastri di partenza con un roster fortemente rinnovato che però fa perno sulle ragazze del vivaglio che in questi anni sono state il pilastro della squadra che nonostante tutte le difficoltà è riuscita a ben figurare nella massima serie della pallamano femminile. L'HC si è scontrata con vere e proprie corazzate che hanno a disposizione mezzi e strutture senza limiti. Anche quest'anno l'allenatore Dejana punterà sullo spirito di gruppo e sulle capacità tecniche delle ragazze cresciute in questi anni che pur giovanissime vantano già presenza in Serie A1. Nei giorni scorsi le Nuresi hanno ingaggiato un nuovo portiere, la siciliana Venera Santa Maria, che va a ricoprire un ruolo decisivo per le sorti della squadra. Per quanto riguarda il campionato la lotta per il titolo vede in pole position il Conversano che ha vinto gli ultimi due scudetti battendo in finale il Cassano Magnago. Le altre formazioni sono però pronte a rompere questo binomio di dominatrici del campionato. Per le Nuresi sarà importante però evitare le ultime due posizioni che significano retrocessione, una missione difficile che l'HC Nuoro sembra in grado di portare a termine.